Cazzo, mi sono sbronzato per bene ieri notte, la mia testa, ho la bocca se che sede, oh giusto, ho spento una sigaretta lì dentro, c'è un puzzo di grutti caldi qui dentro, ho bisogno di un po' d'aria. Ovvio, la chiave nel frigorifero, credo abbia senso dopo cinquanta birra. C'è una metafora per questo, ehi Fred, ti è piacere vederti qui. Wow, non mi stanco mai di quella vista. Cosa potrebbe succedere di peggio? Yuppie! Hi Fred, avevo finalmente trovato il coraggio di bere fino a uccidermi, e uscire da questo incubo per sempre. Ma non ha funzionato, mi sono svegliato di nuovo, ancora bloccato qui con te. Ho preso una pistola, è forse il momento di provare un approccio più diretto. Cos'è, Fred? Credi che non riesca a colpire quei bersagli da questa distanza? Beh, vaffanculo, Freddi, sai che c'è? Eh sì, vattene! Merda, ehi, 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 laggiù, qua giù! Cazzo, cazzo, Fred! Cazzo! Freddi! Devo arrivare laggiù, fanculo! Non provare a fermarmi, Fred! Quell'elicottero è mio! Devo aprire questa serranda! Beh, cosa abbiamo qua? Non ci crederei mai, Fred! Ma sto per salire su quell'elicottero! Cazzo! Via, Freddi! Devo salvare il mio amico! Ehi! Non preoccuparti! Il tuo nuovo miglior amico è qui, sono io! Ci sono quasi, resisti! Smettila di provare a rallentarmi, Fred! Ehi, state calmi laggiù! Contatto umano! Sto arrivando! No, Freddi! Brutto stronzo! No, cazzo! Voglio solo un essere umano, Fred! Sto chiedendo troppo! Solo un fottuto essere umano! Chiedo forse troppo, eh? Tu, Fred, brutto bastardo egoista! Ehi, tu! Cos'hai sul polso? Credetemi! Quando vi dico che possiamo risolvere il problema una volta per tutte, signori, possiamo creare un vaccino! Ma non possiamo farlo senza il paziente serio! Il suo codice genetico è essenziale al processo! Non ci credo! Vogliono provare a fare un vaccino! La chiamata è stata fatta da una stazione di servizio sulla 43esima strada! Pensiamo sia la voce del commesso! Cazzo, Fred! I suoi amici stanno cercando il Freddi numero uno! Il paziente zero, eh! Aspetta! Se trovassi il paziente zero prima di loro, mi troverebbero! Ehi! Ehi! Ciao, piccoletto! Wow, non sapevo fossi lì dentro! Non mordo se non lo fai anche tu, eh? Piacere di conoscerti, bello! Vuoi essere mio amico? Oh, ok! Con cosa posso tentarti, eh? Vediamo un po' Che ne dici di questo? Vuoi giocare al riporto? Vai, amico! Prendilo! Vai, bello! Prendi! Ben fatto, amico! Buddy! Eh? Ti piace questo nome? Buddy! Buddy! Ti piace, amico? Va bene, Buddy! Buddy sì, allora! E vai! Allora, vedi il tuo amico stecchito lì? A quanto pare, stava cercando il paziente zero, quindi ho pensato se lo salvo, mio caro amico beloso! E allora, ci troveranno! Mi fai compagnia, eh? Che ne dici, bello? Vuoi farmi compagnia? Sapevo che l'avresti detto, amico! Andiamo! C'è su Cristo! Vai, prendilo, Buddy! Prendilo! Dannazione, Buddy! Sono contento che tu sia dalla mia parte! Così si fa, Buddy! Andiamo! Forza, amico! Andiamo! Prendili, Buddy! Uh, stai vivendo, piccolo? Bravo! Vieni qui, amico! Prendili, Buddy! Molto bello, bravo, amico! Vai, amico, prendili! Vai, Buddy! Vai, Buddy! Ah, ah, ah! Sei stato bravo, Buddy! Vai, amico, prendili! Vai, amico! Così si fa, amico! Ehi, Buddy! Vuoi giocare al riporto? Vai, amico! Prendi la chiave! Sai, Buddy? Credo che questo sia l'inizio di una meravigliosa amicizia! Oh, Buddy! Hai scorreggito su di me! Che schifo! Andiamo, bello! Utilizzando questa camera di decontaminazione Cancel Corp accetti il rischio di effetti collaterali che includono ma non si limitano a nausea cronica svenimenti perdita di peso perdita della vista estrema riduzione del pene Vabbè Forza, Buddy! Andiamo a cercare il paziente Zero Grazie a tutti!